Allora, chi segna per la palla? Allora, chi segna per la palla? Inizio a videoare. Vedi, vedi, vedi. Vedi, vedi. Inoltre un po' e ci siamo. Massimo è uno che si applica tanto, questo bisogna dirlo. Sempre che fai due gesti, fai sempre due gesti, proprio nel concerto, invece dal momento che parti, gesto unico. Faccio un esempio, tavolette tiro, l'ho pensata, tavolette tiro, due gesti, tavolette tiro, invece parto, non ho gesto. La frusta, per fare la frusta, non tavoletta, quando hai fatto la tavoletta tiro, no, tavoletta tiro. Dal momento che decidi che fai la frusta e fai la tavoletta, mentre tiri, diventa giusto un movimento unico. Si, si tratta della frusta particolare. Si, te invece fai la tavoletta, sembra quasi che aspetti, poi gli fai il diagonale. E invece, ogni volta, tavolette tiro, tavolette tiro, tavolette tiro, non vedrai mai. Tra un mese, tavolette tiro, parte tiro e la frusta, perché finché fai la tavoletta e il diagonale, non vedrai mai la frusta. E' come io che faccio così, tavolette tiro, oppure tavolette tiro, non è un'unica sporsata, però se la prendo è quella lì. Sì, sì, buon consiglio. Grazie. E la fai? Un momento. Ti ho detto di vent'anni se impara meglio. Io non lo so. Ci provo, ma in più delle volte non mi parte niente. Hai anche più passione. Non so niente. No, la passione ce l'ho anche adesso. La passione ce l'ho anche adesso. Vado, scusate. No, non so niente. Dove che fatto un resto. Be lo sẽo cho輕 lập, mengalo, va si muro. No, Hawaii tutti. No! No, no, Rohside. these. Uh! Uh! Buongiorno to pat Spieler군. We'repool. We're backstage. 欢 twenita Clear ancora'! Paglia s'ha sussurled…? Oh, no. Ma una hindu Justin Hartan le espansio. Grazie. Posso andare? Andate così. Tocanoi, tocanoi. L'ultimo cantoio. Gomi! Sti da colline. Forza, forza. Fai l'altione e ti puoi aspettare, è il più forte di lui. Fai l'altione. 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 Allora. Chi si inizia. No. Molta. 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 Gli sbio sbanzati? Sì, sì. Ha tirato a lui. Grazie.